è passato poco più di un mese dalla tragedia di vigor bovolenta il pallavolista morto improvvisamente sul campo un grande dolore ma adesso la signora federica ha un motivo in più per vivere doriana laraia quando le hanno detto lei è incinta federica lisi moglie dell'indimenticabile campione di pallavolo bovolenta si è di nuovo sintonizzata sulla vita anche lei pallavolista ha perso il suo vigor il 24 marzo scorso stroncato da un maledetto malore in campo al palasport di macerata mentre giocava una partita federica sta entrando nella tredicesima settimana di gravidanza un quinto figlio in arrivo pioniere di una nuova speranza l'arrivo di una vita è una cosa molto molto bella e lui voleva vivere secondo me ci ha lasciato una vita e quindi questo è una cosa meravigliosa alessandro arianna e le gemelline aurora e angelica vorrebbero un fratellino anche la madre ha un desiderio speriamo che sia un maschio vigor è uno e vigor sta dentro di noi quindi il nome sarà andrea forse una valanga di nuove emozioni ancora solo sussurrate per la famiglia bovolenta c'è dolore ma ora c'è anche gioia i confini sono ancora confusi ma per federica e la sua giovanissima truppa c'è anche una sicurezza che non guasta il lavoro fisso offerto dalla feder pallavolo ero senza lavoro perché ero a casa con i bambini è un'offerta del genere è molto bambini è molto bella